Gel in resina, è un bicomponente ideale per pareti, rivestimenti, docce, molto resistente, lucidissimo e si stende benissimo, si usa a spatola, come vedete è l'inxtrower, usate delle spatole buone per fare questi lavori. Grazie a tutti. Per adesso è l'unico gel che lascia veramente pochissimi segni, ne ho provati tantissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo passati, è un bicomponente molto molto resistente. Questa è la seconda mano, asciuga abbastanza in fretta, massimo 24 ore per sovrapporre un'altra mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate, si stende veramente benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo qualche minuto, non dopo mezz'ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.